In questo terzo video vedremo i luoghi del viaggio di Dante, l'inferno, il purgatorio, il paradiso, in quale contesto generale sono collocati, qual è la visione del mondo cui si rifà la divina commedia, è la nostra oppure è un'altra concezione, qual è quindi la concezione dell'universo tipica del medioevo. Come una cattedrale gotica la divina commedia realizza una sintesi dell'universo medievale che nel suo viaggio Dante percorre e descrive interamente. La struttura del cosmo dantesco viene immaginata con precisione realistica, l'ingresso all'inferno si trova presso Gerusalemme, ad eguale distanza dai confini del mondo, il Gange e le colonne d'Ercole. La caduta di Lucifero, l'angelo ribelle che si è conficcato al centro della terra, ha provocato la voragine infernale. Nell'emisfero australe occupato dall'oceano, la roccia che si è ritirata di fronte al demonio ha formato il monte del purgatorio. Attorno al globo terrestre, sferico e immobile, secondo le indicazioni del geografo antico Tolomeo, ruotano nove cieli che prendono il nome dalla luna, dai pianeti e dalle stelle. Ancora oltre, nell'immateriale empireo, Dio viene adorato dai beati della candida rosa e circondato da nove cori angelici. La Divina Commedia stabilisce con una ferrea logica anche l'ordine delle anime, responsabili, nell'aldilà, delle loro libere scelte compiute in vita. Gli spiriti maledetti dell'inferno vengono disposti in cerchi sempre più profondi, secondo la gravità dei peccati stabilita dall'etica di Aristotele, fino ai traditori divorati da Lucifero. Fanno eccezione i vili, confinati da Dante nell'anti-inferno e gli spiriti del limbo, pagani virtuosi o bambini non battezzati. Le anime del purgatorio, invece, espiano le loro colpe distribuite sulle cornici della montagna, nell'ordine dei sette vizi capitali previsti dalla Chiesa. Salendo al cielo si incontrano infine i beati, secondo l'ordine di importanza dei meriti acquisiti sulla terra.